Io sono tra quelli che hanno sostenuto Matteo Renzi anche in occasione dell'ultimo congresso, ma eravamo in tanti, il 70% dei sostenitori, dei militanti, degli iscritti, degli elettori del Partito Democratico ha votato per Matteo Renzi al congresso, che quindi è forte di una maggioranza indiscussa. Questo lo responsabilizza anche e in particolare oggi, visto che abbiamo insieme ad altre forze politiche in Parlamento a larga maggioranza ha votato una nuova legge elettorale che premia le coalizioni, credo che il segretario del mio partito debba lavorare nelle prossime settimane per costruire la coalizione, posto che il PD per quanto sia forte e essenziale non sarà sufficiente con questa nuova legge elettorale, per cui mi auguro che il suo sforzo vada in quella direzione.